Umanamente è doloroso, è molto doloroso perché fino a che si parla di cose concrete ci si può anche confrontare. L'attacco personale è qualcosa che fa male. Detto questo guardiamo avanti. Il treno del sindaco Raffaella Campagnolo è arrivato al Capolinea, ma ci sono altri convogli che viaggiano su altri binari, quello umano, personale e quello politico. Mai mi sarei dimessa per senso di responsabilità, per le opportunità che Nove aveva. Ci sono tante opere che non partiranno per centinaia di migliaia di euro. Mai mi sarei dimessa in una situazione di conflitto. Sono partita come civica e il mio iter si conclude come civica, senza compromessi. La lettura politica della protagonista di questo agosto infuocato nella città della ceramica è molto chiara. Una parte di maggioranza sostenuta dal PD e le minoranze si sono accordate. Paradossalmente quello che avevo chiesto tre anni fa, facciamo una lista unica per nove, mettiamoci a servizio del paese, adesso è successo prendendo me come riferimento contro il quale coalizzarsi. Io mi auguro che questo sia un futuro possibile perché la politica quell'altra è a servizio delle persone. Nel percorso che ha portato alla caduta del governo cittadino entra con tutti e due i piedi anche la faccenda della Fondazione Danieli, sulla quale Campagnolo ricorda alla sua ormai ex maggioranza le proprie responsabilità. Per quanto riguarda la Fondazione, la maggioranza 7 su 8, quindi a parte l'assessore di riferimento, si erano espressi in modo chiaro mettendo nero su bianco la loro volontà. E anche se per me la Fondazione poteva avere un futuro trasformata, ho seguito quello che la maggioranza mi ha chiesto. Quindi la sofferenza è ancora più grande perché ti sosteniamo, Sindaco vai avanti in questa strada, poi non è quello che si è realizzato. Al momento appare improbabile che si possa inserire l'elezione del nuovo Sindaco di Nove nella tornata nazionale di settembre. Ed è quindi plausibile pensare a un lungo, lunghissimo commissariamento con tutte le conseguenze del caso.